Eccoci al Lago di Santa Croce per l'inaugurazione e la serata inaugurale del Lago Fotofest Alpago. Diciamo che questo progetto è il primo in Italia nel suo genere. In questo momento mi trovo vicino alla Vanessa De Francesca, che è la vice sindaco e anche coordinatrice per il Comune di Alpago per questo progetto. Vi ringrazio tutti perché è stato un progetto che ha avuto anche alcune difficoltà nella fase di progettazione, visto che siamo dentro una pandemia. Però il risultato finale è davvero straordinario, vi aspettiamo al Lago di Santa Croce. Io adesso lascio la parola a Vanessa De Francesca, che ci dirà qualcosa riguardo di questo Lago Fotofest Alpago. Ciao a tutti, è una nuova esperienza anche per il Comune, è una mostra a cielo aperto e quindi vi invitiamo a venire a scoprire non solo l'attività di questa mostra, quindi un'attività culturale, ma anche le bellezze del nostro territorio. E quindi il connubio natura e cultura, devo dire, qui in Alpago e qui al Lago di Santa Croce, è sicuramente un binomio vincente. Grazie a tutti per questo incredibile progetto che è veramente unico in Italia e vi aspettiamo al Lago di Santa Croce. Sì, c'è tempo tutto l'anno, quindi fino a giugno 2021, per scoprire la bellezza di questo progetto e anche, ripeto, dell'Alpago e del Lago. Vi aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!